Mi dica Siete aperti? No signora, apriamo alle 10 Ah, io sono già qua, non è che puoi aprire prima Buongiorno Buongiorno Guarda, devo fare un regalo a una mia amica Sì, ha già in mente qualcosa? No Taglia? Eh, non la so Però è alta e ha capelli scuri Signorina Prego, mi dica Mi scusi, ne ha un altro? Perché c'è un filo all'interno Ok, signorina, questo è meglio Però mi raccomando, nel sacchetto me lo pieghi bene Perché poi si stropiccia È un tessuto che non riesco a stirare E poi lo devo cambiare, se no, eh Certo che i bottoni li chiudete proprio tutti, eh Ciao, c'è la Lori? No cara, non è ancora arrivata Ah, ok, vado qua di fronte Sera, cercava qualcosa in particolare? Ma un po' tutto Salve signora Allora, due anni fa avevo preso un pantalone nero Basico, classico, senza zippo, bottone Un vaso all'elastico, comodissimo Ce l'avete? Certo Eccolo qui No, non è questo No, questo ha i passanti Ciao Ciao Per caso, avete ancora questo foglio? Sì, certo, ce l'ho Ok, me lo fai provare giusto per, eh Tanto non sto bene Signora, posso prendere le tue brucce? Certo, sono il regalo Grazie 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 Come va signora? Allora, mi piace tutto Se dovessi prendere tutto Giacca, zaino e pantalone Mi fa un po' di sconto? No signora, non posso È tutta nuova collezione Ne parliamo adesso Ne parliamo dopo in cassa Allora, questa qui è la nostra tesserina Molto molto semplice Ogni 30 euro di spesa Mettiamo un punto Quando la finisce avrà lo sconto del 15% Ma tenere l'euro che vuoi io? Posso anche tenertela io senza problemi Come le dicevo Quando la finisce avrà lo sconto del 15% Su tutti i nuovi arrivi Non ho già il 15%? No signora Quando finisce la tesserina Avrà lo sconto del 15% Ma su quello che voglio? Sì, non avrà un minimo di spesa Ma su tutto quello che voi vedo? Sì, tranne una linea La linea Iodei Ma per il resto No, non su tutto quello che vedo Su tutti i capi Però sulla linea Iodei ma no Ma poi voi vi ricordate che io ho il 15% Avete il 38% di questo? No signora Purtroppo quella è l'ultima ed è un 40% Dai, un altro negozio? Signora, posso esserle d'aiuto? No, sto guardando Per esempio, sto pantalone quanto viene? 24, signora Ma mi va? Eh signora, è una taglia unica Dovremmo provarlo Eh ma l'elastico non mi va Signora, allora ce l'ho in tutti questi colori disponibili È una taglia unica Ed è una bella vestibilità